Ho fatto che state prelevando campione in liquido femminile Lei è già stato scagionato, se ne vada! Non pensate che io stessi bleffando? Cosa intende dire il maniaco feffuale? Non ritenete minimamente fospetto che io mi sia costituito proprio dopo che avete trovato i miei strani biglietti d'amore? Se lei non si fosse costituito saremmo comunque arrivati a lei molto presto Esatto, ormai mi eravate addosso, io sono anticipato i tempi Ma quando voi avete voluto accertarvi sul mio coinvolgimento io risposto in maniera sbagliata le vostre domande Erano domande specifiche sugli omicidi Il fatto che lei non conoscesse le risposte l'ha fatta rilasciare Esatto, ma se io avessi sbagliato apposta a darvi quelle risposte sbagliate Agente, maniaco feffuale pare che sia finto mitomane per essere scagionato O forse sta solo provando a farsi arrestare ancora Direi che c'è solo una cosa da fare Agente, prelevi il campione di liquido seminare del maniaco feffuale Poca storia, gente, sappiamo che in fondo ci sta prendendo gusto Come mai ci ha messo tanto per levare il campione di DNA di maniaco feffuale? Questo pervertito ha iniziato a fare il difficile Chi controlla i controllori e altre cose del genere? Ah, ora comprendo Può andarsene ora, maniaco feffuale Aspetta una fo' chiamata a fallone Cosa è successo di preciso dietro al ciaspuglio? Spero solo ne si avalzi la pena, ispettore Agente, non possiamo tralasciare alcun sospettato Così il dottore confronterà tutti i liquidi seminari con quello ritrovato sulle vittime È vero, ispettore, solo così potremo trovare l'assassino di Palasville Oh, ma guarda che caso, anche voi qui! Non la incontriamo per caso, spazzino Oh, siete qui per me? Che cosa posso fare, vero boy detective? Lei è uno dei potenziali sospettati L'agente le preleverà al campione del suo liquido seminare Agente, le inventa proprio tutte per passare un po' di tempo in intimità con me Ma mi dica agente, salgo io sul bambone o si inginocchia lei? Rufus, ripete, tariffa doppia sul conto della signora sindaco Complimenti agente, questo era l'ultimo campione Non credo proprio, ispettore Credo che il suo agente si sia fatto prendere un po' la mano Che intende dire, spazzino? Dov'è il mio agente? Deve essere mia giornata fortunata Oggi essere secondo prelievo di liquido seminare qui a partecipare Andiamo? Ehi, voi due, dove state andando? Oh, ispettore, non ho letto l'ultima edizione Agente, prelevare liquido seminare in triletto? Quella maledetta giornalista Scriva nome e cognome sulla provetta e si tolga le po' Agente! Ispettore, crede che mi meriterò una promozione? È stato magnifico, agente Ha archiviato tutti i liquidi seminali di Palasville Qualcuno anche due volte Ispettore, ora le porti al dottore Lui li analizzerà Agente, che le prende? Non mi abbandoni? Mi lasci andare, ispettore Morirò felice per essere servito a qualcosa In realtà, agente, lei non ha servito molto Cosa intende, ispettore? Non ha letto l'ultima edizione? Come? No? Che dice? La maledetta giornalista ha già racconto e pubblicato la lista completa del DNA di tutti gli abitanti di Palasville Quella maledetta put***a Un momento, c'è qualcosa che non torna nell'articolo della giornalista Cosa, ispettore? Qui dice di aver catalogato il DNA di ogni uomo di Palasville Ecco spiegato perché dopo il nostro rapporto sessuale ha insistito che le lasciassi il preservativo Mi ha detto che anche lei faceva la mia stessa collezione Qui dice di aver già affrontato il DNA con quello dell'assassino senza aver trovato alcun riscontro Ma come può avere il DNA dell'assassino? È una prova che ha catalogato unicamente il dottore Già, ma non solo La giornalista ha omesso alcuni DNA Mi lasci indovinare Non ha catalogato il proprio liquido seminale Esatto Ispettore, io dovrei avere ancora un po' dei suoi fluidi p***i sul cofano della mia macchina Potremmo portarlo ad analizzare dal dottore? Ormai è certo che l'assassino di Palasville è lei È solo così che potremmo incriminarla C'è un altro problema, agente Anche il DNA del dottore non è stato catalogato Pensa che il dottore possa essere coinvolto? A questo punto, meno a oro Qui dice che mi sono rifiutato di collaborare e non abbia voluto fornire il liquido seminale Ispettore, qui dice anche che lei è il maggior sospettato Agente, quella maledetta giornalista mi sta incastrando Per il tuo lavoro e o per il tuo divertimento iris di Fusini Cosa? Mi baciare la macchina? Tutto ilissimo pubblico Se volete scoprire l'identità dell'assassino di Palasville Raccogliete tutti gli indizi che troverete sul luogo del delitto Quale delitto?